ehi la ciurma io sono mazzatessa e ben ritrovati in questa nuova video recensione l'ultima per the by the big adventure event l'evento organizzato da heat center ormai parecchi parecchi mesi fa in cui non sono riuscito a gestire insomma esattamente in modo corretto le tempistiche per quanto riguarda le recensioni oggi parliamo di recipe for disaster si tratta di un simulativo barra manageriale in cui andiamo a gestire un ristorante ci troviamo in una modalità principale è una sorta di campagna quella in cui sono andato a formarmi e cercare di capire come funzionasse effettivamente il gioco e ci sono vari livelli di difficoltà crescente in cui dovremo andare a gestire varie situazioni particolari si tratta appunto di un gioco che è caratterizzato dai delle tempistiche veloci e dalla gestione importante delle risorse come potete immaginare se mi conoscete è un titolo che caratterizza molto cioè che già di suo partiva in positivo per quanto riguarda i miei interessi e infatti devo dire che tutte le ore che ci ho passato sono volate abbastanza in fretta infatti ci ho messo circa una trentina di ore scarse però sono davvero state molto gradite in questo titolo dobbiamo andare di volta in volta a gestire un ristorante andando a raggiungere degli obiettivi che possono essere sia di recensioni che di soldi o comunque di personaggi che non si licenziano perché il personale può diventare stressato in alcuni casi se sbrotta per due volte allora si licenzia e se ne va via quindi bisogna tenere non solo in conto la soddisfazione dei clienti e cosa ne pensano ma anche la soddisfazione del personale dobbiamo andare quindi a occuparci delle necessità sia di uno che dell'altro andiamo a gestire tutto per quanto riguarda il ristorante poi ovviamente in alcuni livelli ci sono delle limitazioni però gestiamo sia l'arredamento che il menù da il costo dei vari piatti ma anche le stesse ricette nel senso che c'è comunque un editor di ricette per cui possiamo andare a creare delle ricette nuove spesso anche questa parte è fondamentale perché ci saranno dei clienti che sono magari insoddisfatti dalla tipologia di ricette presenti alcuni ristoranti alcuni livelli partono con solo determinati tipi di ricette molto base magari non hanno niente focalizzato sulla carne sul pesce potremmo avere vari clienti che desiderano invece quello quindi dobbiamo andare a creare delle ricette ad hoc in cui andare a inserire insomma fornire questo tipo di alimento a chi è interessato oppure potremmo volere dei piatti vegetariani o dei dolci e via dicendo tutto questo gestendo ovviamente anche le scorte di materie base nella dispensa e ovviamente andando a gestire quanto è l'abilità sia di servizio dei camerieri che di cucina degli chef a ognuno possiamo andare a indicare quali siano i suoi compiti e man mano che sarà più abile andrà a sbloccare dei nuovi dei nuovi livelli e quindi anche dei talenti su ogni attività che si dividono tra la strumentazione per cui i fornelli il fuoco il forno il tagliare il mescolare e via dicendo ci sono dei livelli che vanno da 0 a 5 man mano che una dipendente no forse da 1 a 5 man mano che un dipendente pratica quel tipo di esercizio la migliora e ogni volta che migliora di un livello di una qualsiasi attività allora sale di livello in generale può sbloccare un talento che si sceglie tra tre diversi perché vengono pescati a caso e quindi anche ogni ogni dipendente potrà diventare di livello superiore per esempio potremmo averli che si muovono più in fretta oppure che non danno mai fuoco alle cose quando sbagliano a cucinare oppure che il loro livello di stress aumenta molto più lentamente oppure che lo fa diminuire agli altri perché è una persona che crea un buon clima tutto questo inoltre si unisce ovviamente anche al discorso della pulizia dello stabile per cui sia il pavimento che i bagni che la strumentazione deve essere pulita e altrimenti possono capitare varie tipologie di disastri oltre a quello che ho citato prima tra parentesi discutendo di altro il fatto di dar fuoco a parte del ristorante per non saper cucinare sufficientemente bene potrebbero intasarsi i water nel bagno oppure potrebbe esserci un'infestazione di topi e quindi questo creerà dei guai soprattutto se per caso dovesse capitarci in concomitanza l'ispettore dell'igiene che quindi andrà a fare recensioni negative o multe per quanto riguarda il ristorante oltre al servizio igiene può passare invece una persona che si occupa di recensioni di ristoranti di cui appunto dobbiamo a cui dobbiamo fare particolare attenzione perché da cosa dice potrebbe dipendere il nostro successo o il nostro successo e alcuni di questi livelli tra l'altro hanno proprio come caratteristica quello di puntare in uno degli obiettivi ad avere una recensione alta per quello che riguarda il recensore del ristorante in tutto questo sono aggiunti anche degli eventi dinamici che possono capitare talvolta perché sia i clienti che il personale potrebbero avere delle necessità particolari però non l'ho sentito particolarmente ispirato perché certe volte capita magari un dipendente che ti propone un suo amico per lavorare oppure chiede un giorno di ferie eccezionale oppure chiede di andarsene via prima stesso discorso analogo può capitare per i dipendenti che potrebbero volersi rendere disponibili per lavorare questo ha sempre un po' il pro e il contro aggiunge un pochettino di cose da gestire in più per il fatto che magari se uno vuole andare prima a casa dobbiamo considerare che il livello di stress per gli altri suoi colleghi aumenterà o dovremo assumere qualcuno magari da licenziare poi il giorno dopo perché altrimenti non riusciamo a gestire il flusso di clienti e ovviamente se il numero di clienti rimane fuori e non riesce a sedersi se ne va via lascia delle recensioni negative al ristorante e quindi non è particolarmente una cosa soddisfacente tutto questo mi ha lasciato abbastanza contento forse l'unica pecca graficamente come sonoro è abbastanza gradevole diciamo non lascia stupiti insomma ma nemmeno delusi una parte che non mi ha del tutto convinto è il fatto che in qualsiasi di questi livelli o comunque in generale nei vari ristoranti si raggiunge un punto in cui bisogna per forza salire cioè è difficile riuscire a fermarsi in una situazione come potrebbe essere magari più realistica per quanto riguarda il mondo reale di tutti i giorni cioè di avere che ne so io un ristorante 3 stelle che fornisce un servizio medio che ha una buona clientela ma insomma non scontenta nessuno là è una situazione sempre a crescere per cui se si ha un ristorante 3 stelle che va bene inizierà ad attirare più gente e quindi o passerà a 4 stelle oppure scenderà giù dalle 3 stelle perché riceverà parecchie recensioni negative da gente che non riesce a sedersi e che magari non è soddisfatta da quello che trova e via dicendo per cui questo l'ho trovato un po' forzato nel senso che punta ad avere un ristorante grande con tanti dipendenti con il massimo dei dipendenti che mi pare sia o 10 o 12 comunque un gran numero tanti tavoli e appunto il massimo di clienti possibili e il livello massimo anche di stelle per quanto riguarda la qualità del cibo mi è un po' dispiaciuto questo però posso capire che è difficile creare una cosa nel mezzo anche perché in genere nei videogiochi se uno si occupa di un manageriale vuole avere sempre di più, vuole creare sempre di più, vuole gestire sempre di più però da un certo punto di vista l'ho sentito un po' forzato inoltre l'altra parte che non mi ha convinto del tutto è quella delle ricette perché molto spesso mi è sembrato che più che la ricetta in sé contava il fatto che ci fossero degli elementi costosi per cui certe volte magari andare a mettere del tofu o del... com'è che si chiama... non mi ricordo comunque degli ingredienti vegani costosi andava ad aumentare parecchio il livello di apprezzamento della ricetta ma solo per il fatto che aveva un costo base del materiale alto e quindi non mi sono trovato del tutto d'accordo con come i clienti recensiscono effettivamente la ricetta creata perché alcune ricette sarebbero davvero super banali perché per esempio per fare una bistecca alla piastra basta prendere il materiale bistecca e metterlo nella piastra fine però il gioco di base delle ricette così semplici le considera in negativo infatti ti suggerisce no, aggiungi più step di preparazione aggiungi più ingredienti e molto spesso mi sono ritrovato a dover aggiungere degli ingredienti parzialmente a caso cioè mettere sempre spezie, sale, pepe eccetera eccetera per stimolare una ricetta più complessa e perché il gioco la ritenesse più accettabile insomma detto questo io comunque in generale mi sento di consigliarlo recipe for disaster non sarà magari il top di un gioco di questo genere però di recente non ho mai più giocato non ho mai più trovato un videogioco di questo stile lo trovate a 17 euro e in realtà ancora in accesso anticipato per cui varie cose stanno ancora in corso di essere aggiunte però è assolutamente completo ci sono alcune cose che vogliono essere introdotte ma già ora è giocabilissimo e gradevolissimo mancano alcuni livelli e alcune altre particolarità però davvero è assolutamente giocabile rispetto a buona parte degli accessi anticipati io vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un mio piace iscrivetevi se per caso non lo siete già fatto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti e buona giornata